Sai che ho sempre pensato di voler fare i flyer per il mio funerale? Ho sempre pensato sta cosa, quando avevo 20 anni, vorrei fare dei flyer per il mio funerale e quando morirò chi rimarrà dopo di me, saprà che li deve stampà e li deve consegnare come fosse una serata. Però spero di morire dopo che ho fatto le grafiche, ecco diciamo, perché ancora non ci ho lavorato.